Pronto? 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 Sì, buongiorno, mi sente? Chi parla? Buongiorno, sono un cliente dell'hotel. Sì, ditemi. Senta, non è che avrebbe da portare in camera delle candele di colore bianco? Non ho capito. Non è che avete da portarmi in camera delle candele di colore bianco? Nel cappè? Delle candele, candele. Quelle lunghe, bianche. Di colore bianco? Sì, bianche, sì. Quando ne volete? Due, tre, giusto per... Facciamo cinque e sei, cinque e sei circa. Due, tre? Cinque e sei. Ma perché queste candele bianche? No, perché prima di andare via vorrei dar fuoco comunque alla camera, capito? Io non vi capisco, eh? No, ho detto, prima di andare via vorrei comunque... Aspettate un po' che vi passo la mia piccola. Prego. Pronto? Pronto? Chi è? Sì, buongiorno, sono un vostro cliente. Buongiorno. Stavo chiedendo alla sua collega delle candele da portare in camera. Delle candele da portare in camera? Sì, cinque e sei candele da portare in camera. Ma lei è già in albergo o deve arrivare? No, sono in albergo io. E quali sono già? Come? In quale camera si trova? Alla tre sono. Alla tre? Sì. No, la tre non è possibile. Solo delle candele, insomma. Cinque o sei candele. Ma noi non ce le abbiamo, candele. Come no? Ma aveva chiesto alla signora quante ne volevo. Non ne abbiamo candele. A cosa le servono? No, perché prima di andare via volevo lasciare un ricordino dando fuoco alla camera. Ah, ho capito. Tutto qua. E magari scenda giù così vediamo come possiamo fare. No, vabbè, ma faccio da solo. Non è, non ci deve preoccupare, si figure. E come mai vuole dare fuoco alla camera? No, così, nulla di che, insomma. Perché ci deve essere un motivo, mi scusi. Eh, scherzo che ci deve essere un motivo. Se lei vuole dare fuoco alla camera c'è un motivo, no? No, beh, perlomeno io non ce l'ho un motivo. Se poi me lo vuole dare lei... Eh no, me lo deve dare lei dal momento che ci vuole dare fuoco. Senta, mi dia solo delle candele e basta. Non facciamo tante storie. Senta giù che le le do io le candele, scenda. Come mi dà le candele? Che sono queste proposte oscene, signora? Alla sua età. Senta che le le do io le candele. Alla sua età. Alla sua età mi dà le candele. Venga, venga, sì. No, senta, vorrei soltanto dar fuoco alla camera. Gentilmente delle candele, 5-6 candele. Giusto per lasciarle accese e far finta di niente. Va bene, venga che le le do. Mi dà le candele? Sì, sì, scenda. Ah, signora. Sto aspettando che scenda. Sto zona. Ah. Sto zona. Sì Sto zona. Stoallen.